Si erano presentati in quasi 4.000 al centro affari e convegni di Arezzo, avevano atteso per ore sotto il sole cocente di inizio estate, adesso oltre la metà sono stati bocciati. Questo l'esito del maxiconcorso per le professioni infermieristiche che accende nuovamente la polemica. Già subito dopo la prova erano emerse le prime contestazioni sulle domande e sulle condizioni affrontate dai candidati, che in alcuni casi avrebbero richiesto l'intervento del 118. A prendere posizione è nuovamente l'ordine delle professioni infermieristiche della Toscana. Con l'attuale carenza di infermieri e viste le condizioni difficili e le tante domande controverse, riteniamo un grave errore aver bocciato il 61,7% dei candidati, ha dichiarato il vicepresidente David Nucci. I dati raccolti in questo giorno confermano e anzi aggravano la prima impressione, prosegue sia sulle domande che sul fatto che la prova della mattina fosse più attinente di quella pomeridiana. I risultati delle emissioni ci creano poi ulteriori perplessità. I non ammessi alla prova pratica sono stati il 52,8%, all'orale l'8,9%, il totale delle spinti dunque supera il 61%. Davvero un peccato e un errore sprecare un'occasione così importante, conclude per selezionare infermieri, scartando tanti professionisti in base ai criteri poco pertinenti e discutibili. Era stato infine lo stesso Nucci ad annunciare che a seguito delle numerose segnalazioni avrebbe provveduto ad inviare una richiesta ad Estar tramite PEC per richiedere di vedere prove di concorso e poter così effettuare le verifiche del caso, una richiesta che comprende sia i questionari relativi alla prova scritta che pratica.